Eccoci e bentornati sul mio canale, riprendiamo con le notizie su Call of Duty Infinite Warfare perché volevo riportare questa notizia che ancora non avevo riportato sul mio canale YouTube, cioè nuovi gradi, comandante, arrivata proprio alla notizia all'interno del multiplayer del gioco dell'Infinity World. Abbiamo deciso di rendere più interessanti le missioni soldato ogni squadra missione ora può raggiungere il grado 100 invece del grado 50 una volta raggiunto il grado 50 il nuovo obiettivo sarà il grado di comandante e lotterà raggiungendo il grado 100, comandante, squadra, missioni gradi più alti equivalgono ai ricompensi migliori quindi una volta raggiunti verranno premiati con versioni Mark II di armi prototipo esclusivo per le squadre missioni vuoi creare altre armi? I grado di comandante forniscono materiale ad ogni nuovo livello sempre che quel livello non sia già stato associato ad un prototipo Mark II come ricompensa quindi ragazzi come potete vedere sono state introdotte le armi Mark II come ricompensa delle squadre missioni quindi aumentato il livello dal 50 al 100 fatemi sapere qui sotto nei commenti se avete già livellato il livello 50 e siete dritti dritti verso il livello 100 e noi ci vediamo con tanti nuovi video se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video sempre qui sempre sul mio canale so to'